Decine di detenuti, circa 100 per lo più giovani, sono usciti dal carcere in Nicaragua qualche ora prima dell'inizio di una nuova fase di dialogo fra governo e opposizione per la pace e la riconciliazione. I detenuti arrestati per aver partecipato a manifestazioni antigovernative resteranno agli arresti domiciliari. Si registra da parte dell'opposizione intanto un certo malumore per il fatto che nell'equipe negoziatrice non vi siano rappresentanti dei contadini mentre universitari e donne sembra abbiano solo due posizioni fra i negoziatori supplenti. Secondo le organizzazioni per la difesa dei diritti umani le persone arrestate sarebbero oltre 700.